Benvenuti alla quarta lezione sulle correnti impressione. Vi ricordiamo che ci stiamo occupando delle dissipazioni di energia subite da una corrente per effetto delle resistenze nel suo movimento all'interno di un condotto. Abbiamo ricavato un'espressione di questa cadente relativa alla moto laminare e abbiamo verificato che questa espressione non era valida nel caso di moto turbo lento. Questo perché nel caso di moto turbo lento esistono delle componenti di agitazione della velocità che incrementano la resistenza incontrata dalla corrente. Abbiamo provato ad affrontare il problema del moto turbo lento attraverso lo studio del campo medio della corrente cioè facendo riferimento ai valori medi delle grandezze in gioco. Da questa analisi abbiamo ricavato delle informazioni di tipo qualitativo molto importanti, molto significative ma non siamo riusciti a ricavare l'espressione della cadente nel caso di moto turbo lento perché non siamo in grado di valutare il contributo fornito dalle componenti di agitazione turbo lenta. Abbiamo di conseguenza deciso di cambiare il modo di affrontare il problema affrontandolo attraverso un approccio del tutto diverso. Abbiamo già visto la volta precedente le caratteristiche di questo modo di procedere e adesso le riprendiamo per affrontare e poi per portare avanti queste caratteristiche. In questa lezione che tratta quindi le correnti impressione ci occuperemo delle ricerche sul moto uniforme e in particolare queste ricerche le condurremo attraverso l'analisi dimensionale e in questa lezione studieremo la moto assolutamente turbo lento in tubi lisci e il moto turbo lento di transizione in tubi lisci. Vediamo l'impostazione generale del problema, riprendiamola dalla scorsa lezione. Analisi dimensionale l'analisi dimensionale abbiamo visto la volta scorsa riguarda si conduce attraverso lo studio di un fenomeno mettendo in evidenza tutte le grandezze che coinvolgono questo fenomeno e cercando delle relazioni fra tutte queste grandezze le quali relazioni devono avere la caratteristica di essere dimensionalmente omogenee che significa che le dimensioni delle grandezze che stanno al primo membro devono essere esattamente uguali alle dimensioni delle grandezze che stanno al secondo membro usualmente si sceglie la grandezza da indagare e si esprime in funzione di tutti gli altri parametri da cui essa dipende e le relazioni che si instaurano devono appunto soddisfare questa omogeneità dimensionale dicevo abbiamo visto la volta scorsa che per testare la bontà di questo modo di procedere inizieremo con lo studiare il caso del moto laminare incondotti il quale caso peraltro noi avevamo risolto dal punto di vista analitico quindi conosciamo già i risultati di questa analisi riusciremo a confrontare quindi i risultati ottenuti con l'analisi dimensionale con quelli ottenuti per via analitica se i risultati coincidono e come vedremo coincidono vuol dire che il modo di procedere cioè l'applicazione dell'analisi dimensionale porta risultati concreti esatti e questo ci incoraggia nell'applicazione di questa analisi dimensionale anche al caso del moto turbolento che invece noi non conosciamo in dettaglio in particolare qua è ripresa quello in questa slide è ripreso quello che ho già detto cioè dire che bisogna individuare tutte le grandezze da cui il fenomeno dipende che bisogna costruire relazioni tra le grandezze stesse che rispettano il principio dell'omogeneità dimensionale e la slide aggiunge che ovviamente la grandezza che noi vogliamo studiare è la cadente c'è un piccolo problema il piccolo problema consiste nel fatto che la cadente è una dissipazione di energia subita dall'unità di peso del fluido nell'unità di percorso e non ha dimensioni allora quando si applica l'analisi dimensionale è meglio invece trattare grandezze che hanno delle dimensioni per questa ragione noi invece che condurre l'analisi sulla cadente faremo il nostro studio sullo sforzo tangenziale ricordando che fra la cadente e lo sforzo tangenziale c'è una relazione di proporzionalità quindi una volta che avremo risolto trovato la relazione che vale per lo sforzo tangenziale saremo in grado di risalire alla relazione che vale per la nostra cadente riprendiamo qua l'espressione generale e mettiamo in evidenza tutte le grandezze da cui questo sforzo tangenziale dipende queste grandezze sono grandezze di tipo geometrico legate alle caratteristiche del condotto in particolare se il condotto è un condotto circolare il diametro del condotto stesso le caratteristiche ancora geometriche se volete caratterizzanti la scabbrezza della mia tubazione per cui questo parametro l'abbiamo indicato con esse torneremo sul significato della scabbrezza poi le grandezze cinematiche della corrente cioè la velocità media della corrente oppure la portata e infine le caratteristiche del fluido che stiamo studiando cioè la viscosità e la densità del fluido stesso se vogliamo tener conto della forma del condotto invece che utilizzare il diametro del condotto come nel caso della tubazione cilindrica circolare possiamo mettere in evidenza come grandezza caratteristica della condotta il raggio idraulico della condotta però in questo caso dobbiamo anche tener conto della forma del condotto attraverso un coefficiente che abbiamo chiamato alfa che è il coefficiente di forma Dicevamo inizialmente che i casi che noi andiamo a studiare sono i due regimi estremi che si possono verificare da una parte andremo a studiare il caso del moto del laminare ripeto già studiato per via analitica dall'altra parte andremo a studiare il caso del moto assolutamente turbolento i due regimi di movimento come ricordiamo si differenziano per il diverso peso che hanno le componenti di sforzo tangenziale viscoso e turbolento sul sforzo tangenziale complessivo in particolare ricordiamo che nel caso di moto laminare sono assolutamente preponderanti gli sforzi di tipo viscoso e gli sforzi di tipo turbolento sono assolutamente trascurabili nel caso del moto assolutamente turbolento invece gli sforzi di tipo turbolento sono preponderanti in tutto il campo del moto tranne che come ricordate in prossimità della parete in quel straterello di fluido che chiamiamo substrato limite laminare nel quale substrato limite laminare e viceversa sono preponderanti gli sforzi di tipo viscoso iniziamo allora la nostra analisi nel caso di moto laminare se partiamo dall'espressione generale che abbiamo visto poco fa tau zero uguale funzione di del diametro della velocità della scabbrezza e delle caratteristiche del fluido mu e rho nel caso di moto laminare questa relazione può essere semplificata basta ricordare l'espressione di Newton che mi da lo sforzo tangenziale per vedere subito che questo sforzo tangenziale non dipende dalla densità ma semplicemente dalla viscosità e inoltre in questo sforzo tangenziale non compare assolutamente la scabbrezza questo significa che la nostra relazione può essere scritta semplificandola tau zero uguale funzione 1 del diametro della velocità e della viscosità esplicitando questo legame funzionale attraverso una relazione esponenziale possiamo scrivere che tau zero uguale k per d elevato ad alfa per v elevato a beta per mu elevato a gamma k è una costante senza dimensioni alfa, beta e gamma invece sono tre esponenti rispettivamente del diametro della velocità e della viscosità che vanno ricavati in maniera tale che le dimensioni del primo membro siano esattamente uguali alle dimensioni del secondo membro adesso richiamiamo le dimensioni di ciascuno dei termini che compare nella relazione precedente e in particolare le dimensioni della viscosità sono una massa fratto o una lunghezza per un tempo e le dimensioni del diametro sono quelle di una lunghezza la velocità è una lunghezza fratto un tempo e lo sforzo tangenziale è una massa fratto una lunghezza per un tempo al quadrato se riscriviamo questa relazione in termini dimensionali quindi al primo membro abbiamo una massa per una lunghezza alla meno uno per un tempo alla meno due al secondo membro abbiamo il k che moltiplica la lunghezza elevata ad alfa la lunghezza fratto il tempo elevato a beta e poi la massa fratto la lunghezza per il tempo elevato a gamma e eguagliando gli esponenti delle grandezze fondamentali al primo e al secondo membro otteniamo queste tre relazioni la prima relazione si ottiene eguagliando l'esponente al primo membro della massa e l'esponente al secondo membro o sempre della massa riguardate la relazione precedente la seconda equazione riguarda analogamente l'altra grandezza fondamentale e la terza la terza grandezza fondamentale risolvendo questo sistema semplicissimo di tre equazioni in tre incognite andiamo a ricavare i valori di gamma di alfa e di beta cioè gli esponenti da assegnare al diametro alla velocità e alla viscosità nella relazione esponenziale che abbiamo in precedenza richiamato di conseguenza lo sforzo tangenziale sulla base di questi esponenti divene k che è la costante senza dimensioni per mu per v fratto il diametro se confrontiamo questa relazione con la relazione del tutto generale che abbiamo ricavato in precedenza in cui lo sforzo tangenziale risultava proporzionale alla cadente iota dal confronto di queste due relazioni ottengo l'espressione valida nel caso di motolaminare per la cadente iota viene 4 per k per mu per v fratto gamma di quadrato e questa relazione a meno del valore della costante è esattamente quella che abbiamo trovato attraverso il procedimento analitico il valore della costante da questo procedimento risulta essere il 4k risulta essere pari a 32 è facile andare a fare il confronto e se noi però non avessimo avuto questa risoluzione analitica sarebbe bastato fare un'unica prova sul nostro su un condotto per andare a ricavare il valore della costante fra parentesi devo dire che dal punto di vista concettuale basta una sola prova per determinare la costante probabilmente chi si dovesse trovare di fronte al problema di questa determinazione magari farebbe più di una prova per controllare se effettivamente il valore della costante è 32 in tutti i casi che vengono indagati sperimentalmente andiamo a passiamo adesso al regime di moto che sta nella nella zona diametralmente opposta a quella che abbiamo indagato fino adesso cioè il regime di moto assolutamente turbolento siccome non siamo ancora in grado di mettere in conto l'influenza della scabrezza noi andiamo a fare quest'indagine con un'ipotesi semplificativa che è quella che il moto assolutamente turbolento si verifichi in tubi lisci l'ipotesi non è come vedremo nel seguito ammissibile però dal punto di vista concettuale possiamo cominciare a ragionare in questa maniera e ovviamente se ricordate l'espressione dello sforzo tangenziale turbolento questo sforzo è funzione della densità e non dipende dalla viscosità quindi nel caso di moto assolutamente turbolento c'è l'influenza non c'è l'influenza della viscosità c'è l'influenza della densità del fluido riprendiamo allora l'analisi ricordando che l'ipotesi che stiamo facendo è quella che il tubo sia un tubo liscio l'espressione della tau zero con le considerazioni che abbiamo fatte in precedenza e con l'ipotesi fatta risulta essere la seguente tau zero uguale funzione 2 del diametro della velocità in media nel condotto e della densità come vedete non figura la viscosità per le considerazioni che abbiamo detto e non figura la scabrezza perché abbiamo ipotizzato che il moto sia avvenga in tubi lisci esplicitando legame funzionale con il solito esponenziale abbiamo tau zero uguale lambda 1 dove lambda 1 al solito è una costante senza dimensioni per d elevato ad alfa primo per v elevato a beta primo e per ro elevato a delta con con tenendo conto delle delle dimensioni di tutte le grandezze che figurano in questa relazione in particolare il diametro e alle dimensioni di una lunghezza lo sforzo tangenziale è una massa fratto una lunghezza per un tempo al quadrato la densità è una massa fratto una lunghezza al cubo la velocità è una lunghezza fratto un tempo facendo la solita operazione di sostituire le unità di misura alla relazione che abbiamo scritto in precedenza e eguagliando gli esponenti delle grandezze fondamentali si ottiene questo sistema dal quale facilmente si ricavano le tre incognite alfa primo beta primo e delta e il risultato è che alfa primo è uguale a 0 beta primo è uguale a 2 e delta uguale a 1 di conseguenza nel caso di moto assolutamente turbolento la tau 0 risulta essere uguale a lambda 1 per v al quadrato per rho se andiamo a confrontare questa espressione con la relazione di iota che abbiamo visto in precedenza che vale per qualsiasi regime di movimento allora la relazione che andiamo a trovare è iota uguale 4 lambda 1 rho v quadrato fratto gamma per d e facendo le opportune semplificazioni viene fuori 4 lambda 1 u quadrato fratto g per d il valore della costante lambda 1 e da determinare sperimentalmente anche in questo caso dal punto di vista teorico basterebbe una sola prova però dobbiamo stare in questo caso molto molto attenti perché la relazione che abbiamo ricavato con l'ipotesi che si trattasse di un moto assolutamente turbolento in tubi lisci e in realtà poi quando noi andiamo a fare le prove sperimentali queste prove sperimentali le facciamo in tubi scabri e quindi molto probabilmente questo lo vedremo meglio nel seguito questo questa costante questo parametro lambda 1 in realtà non risulta essere una costante ma bensì è una funzione della scabrezza della tubazione e quindi questo legame andrà indagato accuratamente prima di passare ad altro volevo fare il rapporto fra l'espressione di tau zero che abbiamo ricavato valida per il moto assolutamente turbolento e quella che abbiamo ricavato invece nel caso di moto laminare nel moto assolutamente turbolento tau zero uguale lambda 1 v quadrato per rho nel caso di moto laminare tau zero uguale k per mu per v fratto il diametro se facciamo il rapporto fra la tau zero turbolenta e la tau zero laminare otteniamo che questo rapporto è pari a una costante per un raggruppamento rho vd fratto mu al quale diamo un nome particolare si tratta di un numero adimensionale e chiamiamo questo numero adimensionale il numero di Reynolds Reynolds è un un idraulico fondamentale nella storia dell'idraulica e si è occupato molto di problemi di turbolenza ovviamente essendo il rapporto fra le due tau adimensionale la costante è una ha un valore non ha dimensioni e anche il numero di Reynolds è una costante adimensionale questo numero questo numero di Reynolds ripeto rho vd fratto mu e essendo il rapporto fra la tau turbolenta e la tau viscosa è un indice della turbolenza della mia corrente tanto più alto è il valore del numero di Reynolds tanto maggiore la turbolenza della mia corrente anzi si può vedere anche sperimentalmente e lo si può vedere per esempio attraverso l'esperienza di Reynolds che abbiamo illustrato nelle scorse lezioni che esiste un numero di Reynolds limite che mi rappresenta il passaggio fra il regime di moto laminare e il regime di moto turbolento questo numero di Reynolds è pari a 2.000 quindi per numeri di Reynolds inferiori a 2.000 il moto sarà laminare per numeri di Reynolds superiori a 2.000 il moto sarà turbolento volevo segnalarvi che questa suddivisione questo numero 2.000 è un numero un po' convenzionale nel senso che se noi facciamo l'esperienza di Reynolds che abbiamo già illustrata si potrebbe verificare che anche per numeri di Reynolds superiori ai 2.000 si abbia moto laminare quindi vi ricordo che in questo caso i filetti le traiettorie di fluido colorato sono rettiline e parallele all'asse della tubazione e viceversa dicevo per numeri di Reynolds superiori a 2.000 fino anche a 4.000 può verificarsi moto laminare però si tratta di forme non stabili di moto laminare perché basta che si introduca una qualsiasi perturbazione per esempio si dia una vibrazione alla condotta in cui avviene questo moto per far passare subito il regime di movimento dal regime laminare al regime turbolento per numeri di Reynolds inferiori a 2.000 invece la forma stabile è il regime laminare quindi anche quando noi introduciamo una perturbazione una volta che abbiamo tolto questa perturbazione il regime torna a essere un regime laminare volevo segnalarvi la presenza di una formula che è stata molto utilizzata in passato è una formula di tipo sperimentale molto vecchia che mi fornisce il valore della cadente e lega questo valore della cadente alla velocità al quadrato fratto 2g g e l'accelerazione di gravità per il diametro del condotto moltiplicato per un coefficiente lambda ora ora se confrontiamo questa formula iota uguale lambda v quadro fratto 2gd che si chiama formula di Darcy Weissbach con la relazione che abbiamo trovato poco fa per il moto assolutamente turbolento ci accorgiamo che le due relazioni sono praticamente coincidenti basta chiamare 8 lambda 1 nella relazione da noi trovata uguale lambda per avere esattamente la stessa relazione tradizionalmente nell'idraulica quindi si tende a utilizzare la relazione di Darcy Weissbach per esprimere il legame fra iota e le grandezze da cui dipende ovviamente nell'ipotesi che noi abbiamo fatto che il moto assolutamente turbolento si verifichi all'interno dei tubi lisci il parametro lambda risulta essere una costante abbiamo già evidenziato poco fa che viceversa il lambda 1 e quindi il lambda se il tubo è scavro dipenderà dalla scavrezza della tubazione però nell'ipotesi fatta di moto assolutamente turbolente in tubi lisci il valore di lambda risulta essere una costante e quindi nel moto assolutamente turbolento il legame fra iota e la velocità è un legame di tipo quadratico al contrario di quello che succedeva nel moto laminare in cui invece il legame fra la iota e la velocità è un legame di tipo lineare adesso avendo trovato le relazioni valide per il moto laminare per il moto assolutamente turbolento ci occuperemo invece del moto turbolento di transizione si chiama così cioè dire non siamo in un moto assolutamente turbolento siamo in un moto turbolento nel quale gli sforzi tangenziali viscosi e gli sforzi tangenziali turbolenti sono entrambi hanno entrambi uguale importanza ci cominceremo a occuparci del moto turbolento di transizione anche qua con l'ipotesi di tubo liscio perché abbiamo ancora fino adesso la difficoltà di caratterizzare la scabrezza della tubazione cosa che faremo poi nel seguito cosa succede nel caso di moto turbolento di transizione succede che siccome sia gli sforzi viscosi sia gli sforzi turbolenti sono ugualmente importanti nella relazione funzionale tau zero figurano al secondo membro sia la densità del fluido da cui dipendono gli sforzi turbolenti sia la viscosità del fluido da cui dipendono gli sforzi viscosi abbiamo quindi quattro grandezze possiamo assumerne tre come fondamentali e usualmente si assumono come fondamentali il diametro la velocità e la densità e fatta questa assunzione come il valore della viscosità possiamo esprimerlo in funzione delle altre tre grandezze il risultato è che mu uguale a rho vd fratto il numero di Reynolds questa relazione evidentemente deriva dalla definizione del numero di Reynolds che vi ricordo Reynolds uguale a rho vd fratto mu allora a posto della viscosità nella relazione precedente possiamo andare a sostituire l'espressione della stessa viscosità in funzione dei tre parametri fondamentali rho vd e di un numero adimensionale che è il numero di Reynolds cosa significa questo significa che quando noi andiamo a riscrivere questo legame funzionale e a esplicitare il legame funzionale attraverso l'esponenziale cioè rifacciamo lo stesso percorso che abbiamo seguito nel caso di moto assolutamente turbolento noi otteniamo la stessa relazione che avevamo ottenuto in precedenza cioè tau zero dipende dalla densità dal quadrato della velocità e questo prodotto è moltiplicato a sua volta per lambda solo che nel caso di moto assolutamente il lambda era una costante nel caso di nell'ipotesi di tubo liscio mentre nel caso di moto turbolento di transizione interviene il numero di Reynolds e quindi il lambda 1 sarà funzione del numero di Reynolds e noi dovremo di conseguenza andare a ricavare il legame funzionale fra il lambda 1 che è la stessa cosa qua abbiamo riscritto la relazione precedente nella forma dell'espressione di Darcy Weissbach il lambda che vi compare nel caso di moto turbolento di transizione in tubi lisci risulta essere funzione del numero di Reynolds e quindi per risolvere il nostro problema è necessario che noi risolviamo il problema di trovare questo legame funzionale l'anda funzione del numero di Reynolds ovviamente l'idraulica è una materia che è abbastanza consolidata e quindi tanti aspetti dell'idraulica sono stati già indagati e risolti il legame funzionale l'anda in funzione del numero di Reynolds è stato trovato ed è stato trovato per via sperimentale dal Blasius il quale ha trovato una formula di tipo sperimentale che è l'anda uguale 0,316 per il numero di Reynolds elevato alla meno 0,25 è relazione che vale per moto turbolento di transizione in tubi lisci con un limite di validità per il numero di Reynolds inferiore a 10 alla settima dal punto di vista teorico invece Prantler e von Karman hanno trovato questa espressione 1 su radice di landa uguale a meno 2 logaritmo in base a 10 di 2,51 fratto r radice di landa vedete che la seconda formula è sicuramente più ha una struttura più complicata del precedente però ha validità del tutto generale cioè non ha limitazione sul valore del numero di Reynolds abbiamo fino adesso trattato un problema del moto laminare del moto assolutamente turbolento e del moto turbolento di transizione non prendendo in considerazione in alcuni casi perché non ce n'era necessità nel caso del moto laminare ma negli altri casi di moto turbolento facendo un'ipotesi semplificativa non abbiamo mai preso in considerazione il problema della scabrezza della tubazione questo è il problema che resta aperto e sarà il problema che affronteremo nella prossima lezione nella quale cercheremo di definire questa scabrezza e vedremo che la definizione della scabrezza stessa presenta qualche difficoltà però riusciremo a cavarcela anche in questo caso grazie a tutti grazie a tutti